Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. Come anticipato in apertura, in questa puntata parleremo di modelli 2 e 3 e 1 e come è cambiata l'attività degli organismi di vigilanza. Tratteremo l'argomento con i nostri ospiti in collegamento. Inizierei con il dottor Massimiliano Bellavista, partner di Keirion. Bene arrivato. Buonasera. Io partirei proprio con lei chiedendole a questo punto quali sono, proprio a proposito di modelli 2 e 3 e 1, è cambiata un po' l'attività dell'organismo di vigilanza, quali sono i nuovi rischi per le imprese considerando anche quello che si sta vivendo in questo periodo storico, ovvero un'emergenza sanitaria in atto? Sì, diciamo in maniera molto sintetica, più che nuovi rischi ci sono dei rischi che certamente sono amplificati, insomma da far data da febbraio 2020, progressivamente nelle attività degli organismi di vigilanza, nelle attività di ispezione e aggiornamento dei modelli, non sono tanto le fattispecie nuove quanto i rischi amplificati che le aziende si trovano a affrontare, a farla da padrona. in generale ascrivibili a due aree, quella legata al passaggio delle informazioni da chi emana le policy a chi poi le deve far rispettare, legate a un dislocamento delle risorse delle aziende sul territorio in una maniera molto più ampia, molto più fastagliata, senza precedenti rispetto a prima, il che ha comportato e soprattutto comporterà una serie di problematiche del tutto evidenti nella gestione di rischi connessi per esempio alla riformulazione e alla gestione di tutta quella che è la parte giuslaborativa, quindi tutta la gestione della contrattualistica del lavoro, una parte assai considerevole di attenzione a tutto quello che è l'ambito IT GDPR, da una parte la sorveglianza e la gestione delle reti aziendali, cercando di emanare policy e farle rispettare per ciò che riguarda l'uso e soprattutto il controllo dell'abuso di queste reti, anche in maniera involontaria perché chiaramente i rischi sono maggiormente legati in questa fase proprio a questa dislocazione, a questa attività di remote working che comporta un controllo sicuramente in alcuni casi più che accettabile su quelle che sono le reti diffuse, ma un controllo assai difficile su quelle che sono poi gli usi degli apparati che le aziende danno in uso a chi fa remote working, perché si trova a interagire in un ambiente che è quello domestico o postazioni comunque proprio private con tutto quello che ne consegue in termini di potenziale uso e abuso di questi strumenti e di potenziale visione di dati anche riservati da parte di persone che non sono autorizzate a farle, ma che sono chiaramente ascrivibili a quello che è l'ambiente del remote working, quindi dell'ambiente domestico e così via dicendo, perché c'è un problema di riservatezza dei dati, di controllo dei dati, c'è un problema legato proprio all'uso e controllo delle reti e quindi a tutti gli aspetti legati alla gestione della continuità operativa delle aziende. Ci sono problematiche legate all'aspetto della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, perché quest'ambito che è strettamente legato ai modelli 2.3.1 è un ambito che anche esso risente delle diverse e profondamente mutate condizioni di lavoro sulle sedi fisiche aziendali e sulle sedi di remote working e anche del cambiamento di uso di questi infrastruttori, quindi tutto quello che riguarda la parte di 81-2008. Però l'aspetto forse più importante di fondo, di cui a mio avviso sentiremo le conseguenze anche nel lungo periodo, è che i modelli, il modello 2.3.1 non fa eccezione a questo, tutti i modelli aziendali si basano su una componente che è quella della creazione e condivisa di regole e dall'altra parte quella del rispetto e il controllo delle regole. Tutto ciò è assai difficile da fare e da porre in opera, sia nella fase iniziale perché le problematiche legate alla formazione e all'informazione del personale, tutte quelle attività che su certi ruoli chiavi si facevano deviso, in presenza, con tutto quello che permetteva una formazione in presenza, on the job, eccetera, si fa sempre più a distanza e quindi soffre di tutte le problematiche di cui soffrono i collegamenti e la formazione a distanza che sono in larga parte note a tutti. E dall'altro quella della problematica del controllo perché anche le attività di controllo sono rese difficili dalla situazione generale. Quindi più in una parola, più che di nuovi fatti specie, parlerei proprio di una necessità di riformulare e ricarare i rischi e conseguentemente i controlli e la formalizzazione di polisi legate alla situazione corrente finché si protrarà. La ringrazio io, allora a questo punto volevo chiederle qual è tutto ciò, il ruolo, entriamo un po' più nello specifico, il ruolo del consulente e quello della sua realtà di Cairon. Cairon è una società che fa modelli su misura in gruppi di medie e grandi dimensioni, soprattutto nell'ambito servizi IT, ma non solo, e in quello bancario. In generale però credo che il ruolo del consulente sia ascrivibile in generale alla necessità del supporto, supporto all'azienda in un momento così complesso e in una parola al dinamismo dei modelli. I modelli 231, come tutti i modelli aziendali, non devono invecchiare, non devono essere obsoleti. il compito che un consulente può avere è quello di rendere dinamico il modello, di consentire e facilitare il dialogo con il management e le possibilità di aggiornamento, di consentire e fluidificare quelli che sono gli aspetti di integrazione con gli altri modelli aziendali. Tutti sappiamo, chi opera in questo settore sa bene che il modello 231 non è avulso dalla realtà aziendale, c'è un mutuo beneficio dall'integrazione con gli altri sistemi che le aziende hanno nei vari ambiti, quindi i modelli che derivano dall'ambito ISO, possiamo citare 9001, 27001, ISO 20000, ISO 22301, tutte le norme specifiche, ma anche tutti gli altri modelli aziendali sia che riguardino normative cogenti che certificazioni di carattere volontario. E questa vista di integrazione tra vari sistemi un consulente la può fornire molto bene e favorisce da una parte il dinamismo del modello 231, da una parte una sua visione da un punto di vista non solo legale, ma anche di processo. Il modello 231 deve compenetrarsi di questi due fattori, certamente il forte presidio di carattere legale, ma anche una capacità di approcciare le attività aziendali dandone una visione, una vista di processo, perché si tratta di attività dinamiche, quindi non si tratta solo di definire le fatti di specie di reato e sanzionare o definire una classifica dei principali rischi, ma si tratta anche di seguire i processi, descrivere i processi, comprendere i processi e assecondarli, non ingessando l'attività. E poi la componente generale è quella di poter garantire anche una formazione per il fatto stesso che il consulente nella sua attività interagisce con varie realtà e quindi può fornire, rispetto alla riservatezza dei vari modelli, certamente però un'esperienza e un'indicazione di best practices che sono importanti nei modelli 231, non tutto è prescritto alla normativa, poi esistono vari modi di formulare un modello, vari modi di interpretarlo, vari modi di gestire un'analisi di rischio, di conseguenza un'esperienza dettata anche da un bagaglio legato alla visione di altri modelli in altre realtà, può consentire di fare quella stessa cosa che fa sempre il management di ogni azienda, cioè copiare dei pezzi, delle parti di altri modelli di business per arricchire il proprio. Nella gestione di un modello aziendale si fa un po' la stessa cosa per un'altra finalità, cioè comprendere come gli altri si regolano per cercare di migliorare il proprio approccio anche alla gestione del rischio. Per tutto questo Carion ha cercato di farlo e cerca di farlo già ormai da una ventina d'anni. Dottor Bellavista, io ovviamente la ringrazio, la saluto e la ringrazio per il suo importante contributo in questa prima parte di Doppio Binario. Io ringrazio voi. E ovviamente passo, grazie ancora e passo naturalmente la parola a questo punto all'altro ospite in studio che annuncio che è ovviamente l'Avvocato Chiara Padovani. Grazie, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Dunque, le chiedo allora, come è cambiata l'attività dell'organismo di vigilanza? L'attività dell'organismo di vigilanza possiamo dire che sia cambiata sia in termini qualitativi che quantitativi. Qualitativi perché la progressiva introduzione di nuovi reati di particolare complessità tecnica, penso dai reati informatici a quelli di cybercrime, da ultimo ai reati tributari, hanno imposto un ampliamento della sfera delle aree di controllo dell'organismo e di vigilanza dell'organismo di vigilanza, ma anche una richiesta sempre maggiore di alte competenze in campo penalistico particolarmente specifiche e tecniche. Inoltre, come sappiamo, l'emergenza sanitaria tutt'ora in atto ha fatto derivare una serie di rischi diretti e di indiretti in tema 231 che hanno messo a duro banco di prova la resistenza e la tenuta dei sistemi 231 e che ha imposto e che deve imporre correttamente all'organismo di vigilanza una maggiore attenzione ad aree del ciclo passivo ed attivo che in tempi di normalità magari non erano direttamente sottoposti alla vigilanza e al controllo dell'organismo. Quindi potremmo dire che le modifiche alla tipologia di attività, alla tipologia di metodologia di vigilanza e di controllo sono profondamente modificate negli ultimi anni e sono ulteriormente modificate in ragione della pandemia come dicevo sia sotto un profilo qualitativo ma anche sotto un profilo quantitativo rispetto all'impegno di tempo di dedizione che l'organismo deve ovviamente dedicare alla vigilanza e al controllo sull'efficace attuazione del modello organizzativo. A questo punto le chiedo quali sono dunque le caratteristiche peculiari dell'organismo di vigilanza adeguato ai nuovi rischi? Beh innanzitutto le caratteristiche peculiari sono comunque ancora quelle tracciate dalle direttrici normatrive e quindi da quelle che sono ricavabili e dal combinato disposto di quale articolo 6,1 lettere B e D del decreto legislativo 231 del 2001. Quindi ovviamente sul presupposto che la caratteristica principale dell'organismo deve essere sempre la sua autonomia e la sua indipendenza nell'esplicazione dei propri poteri propositivi, consultivi, istruttori ed impulso, a ciò ovviamente si aggiunge nella pratica una capacità complessiva dell'organismo, se si parla ovviamente di organismi collegiali, una capacità complessiva di come dire esplicare al meglio le proprie competenze. Quindi ciascun membro dell'organismo di vigilanza dovrà avere un elevato standing di professionalità e nell'insieme essere l'ideale per vigilare al meglio su quel modello calibrato su quella specifica realtà aziendale. Quindi non tutti i componenti dell'organismo di vigilanza devono avere le stesse caratteristiche per tutti gli organismi di vigilanza delle diverse aziende. La componente penalistica è fondamentale perché sappiamo che la materia di cui trattiamo è una materia di matrice penale che riguarda una responsabilità che vedrà in casi negativi l'ente al banco degli imputati insieme alla persona fisica imputata. Quindi la materia di cui trattiamo è una materia penale. La componente di specializzazione penalistica deve essere presente, ma ovviamente a ciò si devono accompagnare altre professionalità che, ripeto, devono essere coerenti con quella specifica tipologia di rischio al quale l'azienda è maggiormente esposta. Avvocato Padovani la ringrazio e la invito a restare in collegamento per la seconda parte di Doppio Binario. Io ovviamente invito anche gli amici che ci ascoltano, che ci guardano da casa, di restare qui con noi perché pochi minuti di pubblicità e poi, come annunciato prima, inizierà la seconda parte del programma. A tra poco. A tra poco. A tra poco. A tra poco. Grazie a tutti.